eccoci dunque terzo giorno dopo la seconda meditazione vogliamo un po fare il verso all'opera della creazione che aggiunge un elemento dopo l'altro incastrandoli armonizzandoli permettendo all'uomo alla donna di vivere in un contesto bello in un paradiso così ci è stato ricordato ieri nella meditazione di don martino e suor linda la donna e l'uomo sono diversi sono complementari reciproci in comunione in modo particolare è stato sottolineato come la loro caratteristica rispetto a tutti gli altri oggetti o esseri animati e che entrano in dialogo entrano in dialogo tra di loro e il blocco che vedremo sarà proprio un blocco anzitutto di comunicazione quindi la differenza per la comunicazione la differenza per il linguaggio e la forma di questo linguaggio in fondo è fatta di gesti e parole che dovrebbero andare nella direzione della comunione del legame appunto un legame bello interessante proprio perché unisce due prospettive differenti due mondi differenti l'uomo e la donna così come l'uomo si rende conto è legato al signore il suo dio cammina nel giardino della comunione il suo dio fa strada con lui il dio dell'alleanza lungo la storia della salvezza ma un dio diverso un dio altro da sé un dio col quale entrare in dialogo e a volte si interrompe questo dialogo ed ecco siamo appunto alle soglie della terza meditazione e ci viene incontro un passo importante che noi vogliamo in qualche modo ascoltare fin dall'inizio della nostra giornata fin dal momento in cui predisponiamo il nostro cuore stando dentro negli esercizi che ci sono stati dati il ringraziamento la verifica delle modalità del dialogo tra di noi e anche del dialogo con il signore allora ci mettiamo all'ascolto del terzo brano quello per la giornata di oggi il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che dio aveva fatto e disse alla donna è vero che dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino rispose alla donna al serpente dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino dio ha detto non dovete mangiarne non lo dovete toccare altrimenti morirete ma il serpente disse alla donna non morirete affatto anzi dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprerebbero i vostri occhi e sareste come dio conoscendo il bene e il male allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare gradevole gli occhi desiderabile per acquistare saggezza prese del suo frutto e ne mangiò poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture poi udirono rumore dei passi del signore dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del signore dio in mezzo agli alberi del giardino ma il signore dio chiamò l'uomo gli disse dove sei rispose ho udito la tua voce nel giardino avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto riprese chi ti ha fatto sapere che sei nudo hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare rispose l'uomo la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato il signore dio disse alla donna che hai fatto rispose la donna il serpente mi ha ingannata io ho mangiato allora il signore dio disse al serpente poiché hai fatto questo maledetto tu fra tutto il bestiame fra tutti gli animali selvatici sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita io porrò in imicizia tra te la donna fra la tua stirpe e la sua stirpe questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierà il calcagno alla donna disse moltiplicherò i tuoi dolori le tue gravidanze con dolore partorirà i figli verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà all'uomo disse poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiarne maledetto il suolo per causa tua con dolore ne trarai il cibo per tutti i giorni della tua vita spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra perché da essa sei stato tratto polvere tu sei e in polvere ritornerai drammatico questo incontro dell'uomo e della donna che non si incontrano più e dell'uomo e della donna che non incontrano più il loro signore e dell'uomo e della donna che non incontrano più il creato allora oggi senza dimenticare il percorso fatto nei primi due giorni predisponiamo il cuore ancora una volta ad ascoltare il signore ci lasciamo da lui guidare sempre invocando lo spirito santo e e e e e e Grazie a tutti